Ciao a tutti a tutti, vi faccio vedere un'aerea militare, aspettate non so se si vede Ciao a tutti a tutti, mi sono tornati eventualmente sul mio canale, non si ce n'ha visto niente però praticamente io praticamente la macchina è lì e accanto lì ci sono i miei familiari infatti scusate che ci ho morendo un po' di caldo qui vi faccio vedere un'altra prospettiva di Corsa Italia che bello il mare se no mi farei veramente un bagno, ne avrei bisogno poi tra l'altro là ci sono altre parti, tipo là, ci sono i castelli e roba del genere poi ci sono anche delle chiese in più ho accompagnato comunque i miei nonni a prendere un po' di sole così oggi ho potuto registrare almeno due video poi vi faccio vedere due diverse angolazioni vabbè, sono arrivata già a due minuti seguitemi intanto su Instagram, mi chiamo guberti23 e asia bianca 832 che sono anche con gli occhiali in più vi richiedete perché ho questo cappello e perché ho caldo per oggi è tutto, lasciate like, iscrivetevi al canale se è anche buona volta nella vita avete visto la bocca d'assa anche dalla seconda angolazione che poi vi farò anche le altre ma lo farò un giorno quando forse non andrò più a scuola tanto manca poco che finisca per oggi è tutto, da Asia Bianchi out!